Berni Eisel, un'importante raccoglione come il Giro del Trentino qui in Austria, nel tuo paese. Sì, è bello avere il Giro del Trentino qui, e soprattutto con un po' di buoni raccoglionari. Bradley Wiggins è qui, il Giro del France. Abbiamo Nibali, Passo, Scarboni, sono stati forti raccoglionari che sono davvero informati per vincere questa raccoglionaria. e poi iniziamo al Giro del Giro del Trentino qui in Austria e essere parte di questa raccoglionaria. Il tuo team e Wiggins sono uno dei favoriti per Giro del Trentino e Giro d'Italia. Quali sono i principali rivali? Penso che Nibali è davvero buona forma per questa raccoglionaria e vuole vincere questa raccoglionaria. Il Giro dà tutto, e per lui è un po' di più facile da vincere questa raccoglionaria perché c'è solo un timetrial, non un timetrial. Il Giro è diverso, non un timetrial. Il Giro è diverso, non un timetrial. C'è un grande avantage per Bradley. Ma credo che ci vediamo un buon raccoglionario. È sempre un buon raccoglionario di Giro. Il Giro non è deciso nella prima settimana, devi sempre aspettare la seconda, la prima settimana. C'è un buon raccoglionario di Giro di Giro. E questo rende più interessante. Grazie.